Buona mattinata. Grazie Cristina, grazie e buongiorno a tutti, benvenuti, anche così numerosi, è sempre una bella giornata quando riusciamo a ritrovarci con la comunità dei nostri musei. Io semplicemente vi illustrerò brevemente un paio di slide che adesso vado a dividere, ditemi appena lo vedete, riuscite a vederlo? Bene? Sì, perfetto. Allora, in queste slide sostanzialmente io vi ho riassunto quello che è stato e che in certa misura sarà anche per tutti coloro che faranno, compileranno il questionario, l'ITER dal punto di vista istituzionale, amministrativo, ma anche operativo vero e proprio. Come vedete stiamo parlando di un percorso ormai che risale a parecchi anni fa, al 2018, quando fu lanciato il famoso sistema museale nazionale a cui alludeva Cristina con le sue luci e le sue ombre. Di fatto per noi, Emilia Romagna, che comunque siamo una delle prime regioni che ha portato a termine, almeno in questa prima fase, l'accreditamento, sono passati un certo numero di anni perché questo si avviasse, in cui però abbiamo lungamente operato, al di là del fatto che sono stati anni particolari, come tutti sappiamo, l'accreditamento, poi spiegheremo in che cosa è consistito questo percorso, l'accreditamento è iniziato per i musei non statali della regione Emilia Romagna, appunto il 23 novembre del 2022, prima finestra conclusa nel 15 gennaio del 2022, in Medias Res abbiamo espunto dai musei accreditati dalla regione Emilia Romagna, i musei universitari, che pure in buon numero si erano già iscritti, avevano già presentato il questionario, perché poi è stato deciso che questo percorso sarebbe stato curato per quanto riguarda i musei universitari direttamente dal Ministero della Cultura. Dal 15 gennaio fino al 31 marzo si è svolta questa istruttoria, non semplice come accennava Cristina, e che in qualche modo ha coinvolto non solo e non tanto il conteggio dei punti, dei voti, del questionario, ma per noi è stata proprio una revisione complessiva su almeno una parte dell'universo museale, in cui abbiamo coinvolto innanzitutto praticamente tutto il settore, quindi non solo il gruppo del sistema museale nazionale, che ringrazierò sempre, ma anche i settori della valorizzazione, del restauro, così come anche competenze esterne, da lì come Emilia Romagna all'Anci Cultura Emilia Romagna, proprio per avere una vastità di sguardi su questa operazione così importante, del resto era la prima volta che veniva iniziata. Istruttoria finita, elenco formato che è stato poi validato dalla Giunta attraverso una delibera del 4 aprile 2022 e da lì è trasmesso in forma ufficiale al Ministero della Cultura e dopo pochi giorni appunto i musei accreditati sono entrati a far parte a pieno titolo del sistema museale nazionale. Come faccio a spostarmi? Ecco qui, allora abbiamo detto, cominciato nel 2018, ma in questo periodo fino all'apertura del 2021 c'è stato tutto un percorso di accompagnamento in cui abbiamo cercato di pubblicizzare, dare conoscenza alla comunità dei musei di quello che era o voleva essere il sistema museale nazionale e poi regionale. C'è stata, come forse qualcuno di voi ricorderà, questa prima iniziativa dell'8 aprile 2019. Da aprile 2019 a settembre 2021, quindi un lungo lasso di tempo, caratterizzato peraltro dalle difficoltà pandemiche che conosciamo, ha compreso per noi una, per il sistema museale nazionale, ha coinciso con una serie di operazioni da un'indagine conoscitiva che abbiamo svolto, che ha coinvolto un centinaio di musei regionali, a un test vero e proprio sul questionario dei LUC, che ha compreso in questo caso un numero un po' più ristretto di musei, perché volevamo la loro opinione ovviamente preziosa di chi opera direttamente nel settore e soprattutto c'è stata l'implementazione della piattaforma, perché al contrario di altre regioni abbiamo deciso di adottare una piattaforma autonoma, non quella che metteva a disposizione il Ministero della Cultura, per due ragioni sostanziali, perché da un lato il nostro questionario LUC, seppur adotta integralmente il sistema dei livelli uniformi di qualità e valorizzazione, però in qualche caso li espande, o meglio in alcuni casi noi abbiamo introdotto degli altri campi che servivano ad articolare meglio alcune informazioni, perché ritenevamo, li ritenevamo di utilità per conoscere meglio alcuni aspetti specifici. E poi soprattutto pensavamo di utilizzare, come poi è stato, questo incredibile bacino di informazioni determinato da questi questionari che, come ormai tutti voi sapete pure, sono piuttosto complessi, di utilizzarlo per elaborazioni statistiche, per analisi sull'insieme o una parte sostanziale della realtà museale, così come poi effettivamente è avvenuto. Nel frattempo è cominciata e ha continuato questa collaborazione con la Fondazione Scuola del Patrimonio, per cui abbiamo collaborato ai corsi che mano a mano la scuola veniva organizzando, proprio anche in accompagnamento alla crescita, all'organizzazione del sistema museale nazionale. E infine il 23 novembre c'è stata questa giornata di lancio, gemella rispetto a questa, qua vi ho risportato questo piccolo screenshot di un video che poi anche in questa occasione Beatrice vi illustrerà e che serve materialmente, operativamente, a darvi qualche prima informazione su come operare sulla piattaforma. Brevissimamente solo questa slide di riassunto finale di quello che poi è successo dal punto di vista dei numeri. I musei rispondenti che quindi hanno compilato il questionario durante questa prima finestra sono stati circa un terzo del totale, cioè di tutti i musei non statali della regione, per caso insomma le due torte sono speculari, e rispetto ai rispondenti circa due terzi, il 71% di fatto è stato accreditato, cioè i 102 musei, e abbiamo una minoranza però di musei che ancora presenta qualche difficoltà e che quindi non sono stati accreditate in questo passaggio. Cosa è successo dopo? Ecco, ovviamente a partire d'aprile, cioè a conclusione della nostra istruttoria, e devo dire forse anche da prima, insomma dal momento della chiusura al 15 gennaio della finestra di accreditamento, abbiamo cominciato a lavorare sui dati pervenuti, che potevamo desumere dall'insieme dei questionarii, preziosissimi, una miniera di informazioni per molti aspetti, anche se, come peraltro accennava Cristina, come ci siamo resi conto, e non solo noi, regione Emilia Romagna, che il questionario scontava, pur a pochi anni dall'elaborazione, come dire, un invecchiamento anagrafico, e d'altro canto strumenti di questo tipo sono fatalmente rigidi, quasi mai riescono a restituire la ricchezza di una organizzazione così complessa come un museo. Ciò nonostante, abbiamo cominciato ad elaborare i dati, che sono stati poi illustrati in una primissima occasione durante la conferenza stampa di aprile, del 21 aprile, attraverso la quale come regione davamo ragione di questo percorso, che è stata molto partecipata anche dai media, soprattutto si è sottolineato come questo percorso per la prima volta avesse una valenza nazionale, cioè i musei accreditati non sono accreditati, così come accadeva nel vecchio percorso degli standard di qualità solo in seno alla regione, ma sono a tutti gli effetti a livello nazionale musei di qualità. Contemporaneamente abbiamo cercato di fornire la massima visibilità ai musei accreditati, di dar loro una finestra, in questo senso, da questo punto di vista sui social, ad esempio, attraverso la conferenza stampa, ovviamente, vedete questo piccolo logo che ci siamo inventati in casa e che quindi rappresenta il logo dell'accreditamento per quanto riguarda la regione Emilia-Romagna, in mancanza per ora di un logo a livello nazionale, perché insomma a livello nazionale non è ancora chiaro quanto questo poi possa comportare e stiamo lavorando anche su questo fronte. E da giugno in poi abbiamo lungamente lavorato sulla piattaforma che come alcuni di voi sanno, perché si sono scontrate, diciamo, con alcuni problemi dal punto di vista informatico, presentava delle criticità. Era lo scotto da pagare al noviziato, era la prima volta e quindi ovviamente questo era in qualche misura inevitabile, però sull'evoluzione davvero abbiamo lavorato molto, è stato un lavoro nel quale ovviamente ci ha accompagnato la società di M. Non semplice, non semplice, perché poi c'era anche l'interazione con la stessa regione Emilia-Romagna, il settore informatico, però pensiamo che dal punto di vista della usabilità, soprattutto della piattaforma, questa con cui vi troverete a interagire questo sia sicuramente, questo sia uno strumento sicuramente migliorato, migliorabile anche grazie all'infinito, anche grazie al vostro feedback, ma insomma questo è già un sicuro miglioramento rispetto al precedente. E poi soprattutto dall'inizio della, praticamente dalla chiusura della piattaforma abbiamo attivato delle iniziative formative e informative, quelle cui poi accennava Cristina, che hanno accompagnato i musei in questo percorso, da un lato di maggiore conoscenza sempre del sistema museale nazionale di quello che significa e che noi vorremmo significare e noi intendo non solo sistema museale regionale ma comunità dei musei quindi voi con noi sono stati organizzati alcune di queste attività come ricordava Cristina sono in linea di continuità con quello che già il settore ancora prima l'Ibc aveva organizzato ed elaborato ma in particolare anche sulla base di quelle che sono state le analisi desunte dai questionari di accreditamento ci siamo concentrati soprattutto su due temi il digitale che era un tema ineludibile soprattutto dopo la pandemia e l'accessibilità intesa non solo come strumento a favore delle persone con disabilità ma come processo strategico di miglioramento all'accessibilità per tutti e fin dalle prime fasi di progettazione degli allestimenti delle mostre degli eventi ancora è fondamentale abbiamo riattivato il contatto con tutti i musei tutti sia gli accreditati che i non accreditati avevano partecipato a questa prima finestra per descrivere loro per verificare con loro quelle che erano state le eventuali criticità che ci sono anche nel caso dei musei accreditati ovviamente in numero minore ma cheppure sulle quali però era necessario lavorare quindi ci sono stati confronti riunioni sopra luoghi proprio perché per noi fin da subito l'accreditamento non finisce con l'emanazione dell'elenco dei musei e il bollino di qualità ma è un processo che continua nel tempo e che non è mai finito perché poi lo stesso accreditamento ha una durata limitata dura tre anni poi il museo dovrebbe rifare il percorso ed è inevitabile perché i musei stessi sono strutture che evolvono nel tempo non dico da un giorno all'altro ma rapidissimamente perché il contesto poi nel quale si trovano è tale di cui sono in qualche misura dei barometri e per questo insomma che questa interazione che abbiamo attivato avendo come virgolette pretesto i risultati dell'accreditamento ma che poi è di fatto una modalità per creare una comunità di musei una comunità museale sempre sempre più coesa perché i problemi sappiamo sono molti ma l'unica strada per cercare di risolverli è appunto cercare di farlo assieme e unire le nostre forze io a questo punto lascio la parola a Bea perché posso operativamente spiegarvi come che cosa succede può succedere da adesso in poi ricordo che così come è successo per la prima finestra in realtà durante l'intero percorso della finestra il gruppo del sistema museale da un lato e anche il il personale del DDM dall'altro è stato a disposizione tutti i giorni costantemente per rispondere alle domande e ai dubbi che inevitabilmente inevitabilmente ci sono e alle criticità che si sono presentate da un lato sul piano informatico e ovviamente anche sui contenuti degli stessi look siamo qui per cercare di aiutarvi per quanto possibile grazie a tutti e buon lavoro